Buon pomeriggio Reggio, ho deciso rivedendo la mia posizione iniziale di chiudere i supermercati la domenica e di invitare i proprietari gestori della grande e media distribuzione alimentare della nostra città a rimodulare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali. È un provvedimento preso principalmente a tutela dei lavoratori che sono sottoposti soprattutto in questo periodo a turni di lavoro davvero stressanti, ma è una decisione presa anche a tutela della salute di ognuno di noi, perché è una decisione che ovviamente riduce ulteriormente le possibilità di spostamento, quindi riduce i contatti, quindi riduce al minimo i contagi. Ed è soprattutto una decisione presa in piena sinergia istituzionale con le associazioni di categoria e con i sindacati rappresentativi dei lavoratori. Un'altra importante novità è la chiusura al passeggio, al traffico pedonale del porto della nostra città. Bene ha fatto la Capitaneria di Porto a prendere questa decisione perché è una decisione in linea con la mia ordinanza di qualche giorno fa e soprattutto è una decisione che va a tutela della salute di ognuno di noi. A tal proposito, ieri mi hanno scritto i lavoratori pendolari delle due sponde dello stretto rispetto a questa decisione oggettivamente incomprensibile di due società private di ridurre drasticamente i collegamenti fra Reggio e Messina, fra Villa San Giovanni e Messina. Io ho scritto alle due compagnie chiedendo di rivedere questa decisione, soprattutto per ciò che concerne le navi più grandi che hanno maggiori capacità e quindi possono garantire il trasporto con maggiore sicurezza e con minore possibilità di assembramenti. È necessario quindi che vengano ripristinati gli orari precedenti per consentire ai tanti lavoratori pendolari, che sono medici, che sono infermieri, che sono lavoratori del comparto sanitario, che sono lavoratori del comparto delle forze dell'ordine, di poter arrivare, giungere sul posto di lavoro nel migliore dei modi, anche perché svolgono soprattutto in questo periodo di emergenza un servizio essenziale per la nostra sicurezza e per la nostra salute. I dati diffusi anche ieri dal grande ospedale metropolitano ci devono dare fiducia, ci devono dare speranza, ci devono dare coraggio perché sono dati che ci dicono che la nostra città sta facendo meglio di quanto avviene in altri territori del nostro paese. Naturalmente bisogna continuare a tenere alta la guardia, bisogna continuare a tenere alta la concentrazione, bisogna continuare a aumentare i controlli e monitorare il territorio. In questo senso da ieri sono in giro per la città i droni della Polizia Municipale che ci consentono di avere una mappatura più completa delle strade cittadine, soprattutto per ciò che concerne le strade della periferia. Stiamo facendo davvero di tutto affinché ognuno di noi rispetti le prescrizioni del DPCM, rispetti l'ordinanza, purtroppo tutto questo ancora non è chiaro a tutti e serve essere presenti sul territorio. Stamattina in via Montevergine Petti ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in io sono leggenda, quindi passava a casa. L'ho detto proprio in dialetto perché il messaggio arriva in maniera più diretta, in maniera più efficace, ma soprattutto è un messaggio che spero ognuno di noi giorno dopo giorno si stia mettendo in testa.